54 tirucini per favorire l'occupabilità di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza. E' questo l'intento del Bando del Comune di Portici in scadenza il prossimo 29 ottobre 2019. Tutte le informazioni per la partecipazione sono consultabili del Bando pubblicato sul sito internet www.comune.portici.na.it Dottorissa Greco, in cosa consiste il progetto? Il Bando prevede l'individuazione di persone già destinatari del reddito di cittadinanza residenti nel Comune di Portici che abbiano dai 18 ai 65 anni di età. Requisito fondamentale è che abbiano sottoscritto il patto di servizio con il centro per l'impiego o il progetto personalizzato di inclusione sociale con il servizio sociale. L'intento è proprio quello di facilitare l'inserimento di queste persone nel mondo del lavoro attraverso l'attivazione di tirucini formativi e extracurricolari. Ci parli di questi tirucini? I tirucini formativi sono proprio finalizzati allo sviluppo di competenze professionali che siano poi spendibili nel mercato del lavoro. L'ufficio di piano, attraverso un'apposita commissione, valuterà le domande pervenute e le attitudini personali dei candidati per poter poi procedere ad un abbinamento più congruo possibile tra l'azienda, l'impresa e gli utenti. Questi tirucini formativi hanno la durata di sei mesi. Il primo mese è prevista un'indennità mensile di 600 euro, comprensiva di tutti gli oneri, e per i restanti cinque mesi è prevista un'indennità mensile di 500 euro. Quali soggetti ospiteranno i tirucinanti? I tirucini di inclusione sociale verranno svolti presso imprese profit e no profit del comune di Portici e anche dei comuni limitrofi che hanno fatto richiesta. E allegato al bando è possibile anche visionare l'elenco delle imprese dove i beneficiari potranno poi svolgere il tirucinio. Entro quando è possibile candidarsi? È possibile candidarsi entro e non oltre il 29 ottobre. Si può scaricare il modello di domanda direttamente dal sito internet del comune di Portici o presso l'ufficio del segretariato sociale in via salute numero 45 dove occorre anche protocollare la domanda. Infine è possibile rivolgersi all'ufficio di segretariato sociale dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30. Gli uffici sono aperti anche di pomeriggio il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30.